amici sportivi youtube ben ritrovati in un nuovo episodio di crash royal che passione allora andiamoci a spacchettare questo gratis del negozio poi andiamoci a comprare gli sgheri e la sfera invocata da queste prime immagini avrete capito amici sportivi che stiamo al secondo account allora vediamo un po' le emoticons perchè qua questa coltura del pugno mi piace però no non ce la vado a comprare allora niente qua andiamo a spacchettare sto facendo questo breve video perchè è finita la ricompensa di lega e ci dovrebbe dare ah no qua non ho partecipato bene bene così non ho partecipato quindi niente barile quindi figuraccia e passiamo al mio principale perchè là c'è il barile eccoci passati amici al mio account stregone ottimo veramente ottimo allora apri 10 barili andiamoci ad aprire questo qua di oro che non ci riserva niente poi prima del magico anzi no ci andiamo ad aprire prima vediamo un po' le emoji di qua eh ci possono stare ci possono stare dai allora vediamo un po' andiamoci a spacchettare prima questo via via vediamo un po' cosa ci riserva niente di buono zero e il riporto di zero ok amici ma potevo fare l'ultima corona vabbè allora qua abbiamo fatto secondi peccato che col secondo account non ci ho partecipato perchè se no mi buscavo le carte questo barile me lo buscavo pure di là 26 domatori buono 403 mortai ottimo 59 di questi buono niente leggendare 6 bocciatori e 9 cannone a rotelle beh amici un barile degno del peggior ah e qua ci abbiamo da riscontrare anche il premio dammi il gettone dai ti prego non me lo dai da tanto niente le gemme incredibile incredibile amici allora andiamo a donare qua e andiamo a richiedere che richiediamo questa qua la streghetta qua si vabbè la valkyrie quella che gira avete capito amici andiamoci a fare una partita subito subito con il 1v1 o 2v2 ah apri 10 bavoli quindi cioè possiamo fare pure il 2v2 però questo per raggiungere allora devo fare una quarantina di coppe giusto si quindi andiamoci a fare le 1v1 e andiamo a vedere che avversari troviamo che avversari troveremo se saranno alla nostra portata o non saranno alla nostra portata via via allora partiamo andando subito di gigante lui è un livello 12 che ha 4665 quindi più o meno le coppie sono come le nostre più o meno allora andando difendiamoci da di qua ok amici prepariamoci con la scintillona speriamo che lui non c'ha gelo robe simili e vabbè una botta ce l'ha da sempre quando la usiamo noi si vabbè ci ha eliminato l'arciere al livello massimo ma che diavolo è sta cosa e poi stava lontanissimo non ho capito non ho capito che bug è questo dai eliminami quello ok vediamo un po' se riusciamo a fare almeno un colpo ok adesso ne vogliamo 2 ovviamente di colpi ottimo allora il gigante qua non ci riesco quindi evito perché potevo mettere il gigante qua e lo facevo tankare da tutte e due le torri ma non ci avrei mai riuscito quindi inutile allora adesso che possiamo fare possiamo puntare alle 2 o alle 3 puntiamo prima alle 2 dai eh questo lo sapevo che c'aveva il massimo perché c'aveva quella carta di merda di lapide là allora vediamo un po' ci dobbiamo difendere lui potrebbe avere la sfera di fuoco quindi mettiamo questo così così non ce lo dovrebbe prendere ok adesso ce lo dovrebbe prendere vediamo un po' se facciamo di questo se facciamo di questo qua mi sono gli arcieri no quello mi hanno eliminato il mago gli arcieri è clamorosa questa cosa è clamorosa questa cosa vediamo un po' niente lui ci deve asfaltare ci deve asfaltare amici è scritto così e così deve andare però intanto pure noi di là non è che stiamo scherzando eh l'ultima botta sgherro maledetto me lo potevi dare niente non mi ha dato niente minchia amici tre persone a guardare adesso sono due però tanta roba tanta roba allora ripartiamo qua piano piano con questo qua ci mettiamo questo qua questo dai via ok vai eh la sfera di fuoco ce l'aveva lo sapevo buono non mi ha preso il mago non mi ha preso il mago però adesso ci stanno quegli sgherretti là ok grande il mago si difende da solo qua facciamo così merda qua facciamo così dai si utile a qualcosa oh il mago sulla torre benissimo benissimo c'ha la sfera di fuoco vabbè no guarda che buco di culo ho messo gli arcieri al momento esatto no vaffanellasino va che gioco scriptato va andando qua non mi sto difendendo una botta no non gliela riusciamo a dare lui si difende con tutte le armi ok andiamo di questo e dovremmo aver vinto 6 5 4 3 2 1 e perfetto torre di sinistra immacolata per noi ci andiamo a prendere questa bellissima vittoria amici 29 coppe non so se arriviamo a 4.700 ma penso di no no vabbè dai per 4 coppe non mi ci ho fatto arrivare certo che sei proprio balengo certo che sei proprio balengo non ci ho dato manco niente di buono amici a 4.700 ci voglio arrivare in diretta quindi ci andremo a fare un'ennesima partita qua intanto non si trova la carta porca puttaccia ok amici andiamoci a fare questa bella partita allora si parte questo è un livello 13 che c'ha meno coppe di me quindi se perdiamo ci arriva una botta sui denti senza uguali allora già che lui parte con quella carta mi fa pensare che sarà un mazzo abbastanza difficile oh perfetto perfetto allora noi ce ne facciamo di qua ce ne facciamo di qua perché così lo disorientiamo vedi lui ha sprecato pure la zappa là allora facciamoci tancare da quello vediamo se riusciamo a eliminare di quel drago perché se non ci riusciamo diventa un problema ok diventa un piccolo problema adesso quindi facciamo di questo bene la torre no non è andata ma per poco ah lui ci riparte di mago di quello vabbè avete capito noi ripartiamo di questo quando andiamo a vedere i combinabili abbiamo una bella carta combinabile Elias Elias vm vai allora come stiamo messi qua ok vediamo un po' allenabile allora ripartiamo sempre da questo lato aspettiamo fino all'ultimo secondo anzi facciamo così aspettiamo fino alla fine lui ci ha messo il mastino ma ragazzi oggi è la giornata dei mastini mastino potenziato pure con la stelletta incredibile allora questo ce l'ho questo ce l'ho ok quello lo spinge quindi noi facciamo così e facciamo dai mastino muoviti e facciamo così andate sul drago bravissimi gli arcieri bravissimi gli arcieri dai scintilla maledetta elimina quello a fianco a te che dio di fulmini ok vediamo un po' se riusciamo a dargli una bella botta alla torre lui c'ha la zap addirittura addirittura quello ci ha sprecato ok noi ripartiamo di questo che lui non ce l'ha ripartiamo di questo vediamo un po' lui la torre non ce la dovrebbe fare ok allora vediamo un po' qui andando le carte da tenere niente tutte tutte a fuffa tutte a fuffa amici allora lui tra poco dovrebbe riavere guarda che schifoso merda ho sbagliato pure ho sbagliato pure ho sballeato con due L e due I vediamo un po' se riusciamo a eliminare il drago ce lo siamo fatti tankare dai 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 dammi la botta ma vaffala io ci ho sprecato pure la zap ok noi la torre la vogliamo preservare anche se non serve ormai è andata lui mette quello noi mettiamo questo per forza e dovremmo essere adesso in vantaggio perché la sua torre è a 1.5 e la nostra ha tutte le vite quindi facciamo così facciamo così perché quella cacata di carta cioè quella cacata di struttura ce la dobbiamo togliere ok questo è un piccolo problema ad esempio e vai drago di merda muori ok ok lui spreca la zap la cosa oh buono il mago è andato dall'altro lato quindi possiamo fare di questo di questo e allora lui guarda c'ha le carte per tutto c'ha incredibile incredibile allora noi prepariamoci la zap buono lui c'ha messo la zap qua guarda che pezzo di merda 300 amici allora adesso devo difendermi bene devo difendermi bene vediamo un po' se riesco a spostarlo niente niente non ci sono riuscita vediamo se provo l'effetto sorpresa l'effetto sorpresa dai mago andiamo amici l'effetto sorpresa il mago degli stivali lui non ce l'aspettava e andiamo a spacchettarci facciamogli la faccina questa qua e facciamogli pure questa faccina qua che fa gli applausi bene amici 4007 ci andiamo a riscuotere il premio prendi 3000 di oro ottimo allora il prossimo emis a 4008 si 4008 ci da il gettone epico 4008 e poi 4009 ci da il barile questo qua poi a 5000 non ci da niente e a 5075 non lo so proprio così a caso 5075 ci da un'altra 3000 di oro poi a 5150 il gettone leggendario quanti bei oh 100 gem 100 gem è uno spettacolo quanti bei premi beh gettone comune amici io non vedevo l'ora veramente quando ho visto il gettone comune ho detto no non è possibile ci devo arrivare assolutamente a quella cifra poi 5000 di oro gettone raro gettone epico quindi si si riciclano così i gettoni e fino al campione definitivo che poi ci darà il barile finale 10.000 di oro non male non male amici ho seguito che le ricompense si aggiornano quindi probabilmente queste ricompense o quando caricherò questo video o la prossima volta comunque si aggiorneranno amici l'episodio finisce qua penso di sì 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 l'episodio finisce qua iscrivetevi commentate condividete se non siete ancora iscritti fatelo e noi ci vediamo al prossimo episodio who is next iscrivetevi